Ad oggi il 76% degli ultrassessantenni ha ricevuto almeno una dose del vaccino, ma quelli totalmente coperti sono meno della metà, il 38%. Circa 4 milioni di ultrassessantenni sono ancora in attesa della prima dose. Sono tanti? Allora, sono tanti da una parte, però le dico questo. Sostanzialmente sugli over 80, che è la categoria più a rischio, abbiamo vaccinato oltre il 90%. Quindi ce ne mancano all'appello 460.000. Sugli over 70 siamo all'80% e ce ne mancano all'appello 1.200.000. Sugli over 60 siamo a oltre il 65% e ce ne mancano all'appello 2.600.000. Considerando la platea che è calcolata su tessera sanitaria, così nessuno si può lamentare. Quindi tutti gli assistiti. E chiaramente noi adesso dobbiamo andare a terminare queste classi, andandole ad intercettare in una maniera più proattiva rispetto a quello che è stato fatto finora. Li andate a cercare, non li chiamate più. Esattamente. E che fate? Mandate la GIP dell'esercito? Spaventate nei paesi poi. Sostanzialmente anche. Quello che si sta cercando di fare insieme alle regioni, alle province autonome, qui lo voglio riaffermare perché il piano funziona insieme. Cioè se tutti insieme andiamo nella stessa direzione lavorando all'unisono, si raggiungono gli obiettivi e l'Italia vince. E in questo momento sono veramente soddisfatto. Sostanzialmente le regioni stanno, alcune già si sono attrezzate, altre lo stanno facendo, stanno chiamando le persone. Perché ci si sta rendendo conto che in alcune fasce di età, specie le più anziane, mancano persone di cui magari una piccola parte non si vuole vaccinare, ma molte magari non hanno quel grado di informatizzazione tale da poter accedere agli alpiniascoli. A cliccare sul sito. Esatto. E quindi che fate? Creerete dei centri nei piccoli paesi dell'Appennino, della montagna, delle Alpi? Questo è già in atto. Ci sono sia squadre delle Asle, sia team itineranti mobili della difesa che ad oggi hanno somministrato oltre 35.000 dosi sui più anziani che sono distribuite sugli Appennini, vanno con le liste che gli dà l'Asle e con i sindaci, con il messo comunale, vanno nei paesini e vaccinano le persone che ne hanno diritto. Si vede mai da fuori un governo...